Cipolle, carote, insalata, pomodori, patate o zucchine. Basta che sia coltivato nell'orto di casa o addirittura nel terrazzo. Complici alla crisi economica e il boom del biologico, sempre più famiglie fanno di tutto per riuscire a coltivare verdura in proprio. Basta un piccolo orto, la scelta delle giuste piante da interrare, acqua e qualche cura ed il gioco è fatto. Sta prendendo sempre più campo questa forma di allevamento, diciamo, delle piantine. In terrazzo fai da te, diciamo. A basso costo ci sono molti vantaggi, diciamo. Senza che vai a fare la fila al supermercato, la trovi direttamente lì a due passi, diciamo, chilometri zero, come si dice in questi termini. Che cosa chiedono di più come tipo di piante da piantare? Dall'insalata, tutto, diciamo, dall'insalata, basilico, pomodori. I normali ortaggi che si trovano al supermercato, si può benissimo mettere sul terrazzo, diciamo. Importanti sono poi i consigli degli esperti. La cosa più bella dell'orto è che ognuno, basta rispettare i tempi della piantagione, ognuno fa a modo suo, ma alla fine viene tutto a galla. Cioè, praticamente tutti i prodotti che vengono piantati vengono fuori. L'importante è rispettare i tempi della piantagione, non è che ci vogliono tante scuole o tante esperienze. Basta che uno si impegna e di conseguenza l'impegno paga nell'agricoltura. Nel mese di luglio praticamente andiamo dall'insalata al pomodoro, all'erbete, al basilico, al sedano, carote, zucchina, melanzana. Basta avere la passione e le piante sono già pronti, senza mettersi a fare il seme, perché il seme dovrebbe essere piantato prima. Quindi partendo dalla pianta è già pronta da dove si vende. Come fare a avere i pomodori migliori? I pomodori migliori, sinceramente, possono venire anche mettendo un po' di concimazione iniziale e a metà del percorso del pomodoro, quando la pianta diventa all'altezza di un metro o un metro dieci, un'altra concimazione e rispettando un po' la natura, magari gli ultimi venti giorni non dando più concimi in modo tale di mangiare un pomodoro, diciamo, fatto in casa, con un sapore veramente vero, senza tanti, diciamo, prodotti chimici. Come si riesce a capire se un melone è pronto da raccogliere o meno? Basta guardando sul, prendendo il melone, sulla testa del melone, basta vedendo che si chiama il picciolo, si chiama il picciolo, se vede che è secco, il picciolo che è collegato alla pianta, si rende conto che il melone è pronto. Quindi di conseguenza prendi, apri e cominci a mangiare. Io consiglierei ai piccoli persone che cominciano l'agricoltura per casa, preferisco iniziare con l'agricoltura usando il metodo biologico, usando prodotti meno chimici perché non ha bisogno di far crescere la pianta nel giro di 15 giorni, anzi nel giro di un mese e mezzo, perché avendo pure un sapore molto particolare.